Scambiare.f attraverso Francesca R 8 ottobre 22 Voi non siete erbivori, per esempio, essere vegetariani? Lo reputate importante? Fatelo. Non lo reputate importante? Non fatelo. Pensate che una pianta non abbia un'essenza? Pensate che tutto ciò che vi circonda non abbia essenza? Non siete ancora a livello di potervi nutrire o non nutrire, ma scambiare, che è la parola più corretta, energia con tutto ciò che vi circonda. Avete necessità. Quindi cosa è importante? È importante la corretta intenzione nella quale vi approcciate ad assumere. Quello è importante. Questa risposta è possibile perché non siete tutti mentalmente condizionati dal controllare o no ciò che assumete. Qualcuno di voi lo reputa più importante, qualcuno di voi meno importante, qualcuno di voi gli dà meno peso. Quindi ci permette di darvi una risposta più vicina alla verità assoluta. E nello stesso tempo spiegarvi che il vero modo di nutrirvi è quello che deve ancora venire, che è uno scambio di energia tra voi e il tutto. Perché essendo il tutto non avete bisogno di distruggere, ma adesso avete bisogno di distruggere perché dovete creare. Ed è una forma di non conoscenza necessaria perché il vostro corpo fisico nel quale siete incarnati ha necessità di assumere qualcosa. Quando cambierà il vostro corpo fisico, perché cambierà, ma non adesso, parliamo di tra tanti tanti dei vostri anni, non avrete più necessità di. Ma per ora avete necessità di. Cosa scegliete di assumere o non assumere? Non è importante. È importante come assumi. Cosa scegliete di assumere? Cosa scegliete di assumere? Cosa scegliete di assumere?